Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno, buon lunedì! 9 maggio 2016, 2 e 11, buongiorno! Ma oggi che puntata si preannuncia, signori? Ma a parte Paolo Noiz, ma che bello è! Dico, a parte Paolo Noiz, che se non ci fosse sarebbe meglio, ma dico ma che bello sarebbe cosa, buongiorno! Senti, non hai un po' di creme di razzante? Mamma mia, mamma mia! Io non lo voglio mai più vedere qua a Miami, adesso io parlo con il sindaco, con quello della cosa, come si chiama, il consolato! Non ti voglio più! Ma no, ma è inutile! Sei inutilizzabile qua! Sei una troia, sei una troia, la tipica puttanella da prima pagina dei gossipari! Ma io ho la pelle secca! Ma no, questo invece di lavorare, di star qua a costruirsi un futuro tutto il giorno in spiaggia con due ricchioni! Ma che stronzo che sono! Hai capito perché io e Paolo siamo diventati amici? C'è qualcosa sotto, cazzo, c'era! Cioè, allora, quindi io sto portando la ghegheria in America, mentre lui porta il fancazzismo, capito? No, io c'ho i noisers! La ghegheria ce lo può succare! Ma vai a fare il culo, maestro, 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 maestro! Ma è una vergogna, è una vergogna! È una vergogna, maestro! Dovremo iniziare io e lei a, veramente, a fare una riunione di quelle serie, dovremo fare il gag 2, perché siamo rimasti in due! Il gag 2, io e lei, ci riuniamo, parliamo un attimo, è come il G8! Ma poi parli, lui fa i versi, lui tira il freno a mano! Io parlo benissimo, Paolo, parlo molto bene! Maestro, maestro, glielo vuoi spiegare al cicciole di merda che lei è laureato? Esatto! Questo non ha neanche mai visto la struttura scolastica! Esatto! Io sono laureato al Downs! Sei laureato al Downs! Al Downs! Aspetta, come l'hai detto? Io sono laureato al Downs! Sono laureato al Downs! Corri Forest! Corri! Madonna, Madonna! Vabbè, vabbè, Marco! Oggi è successo di tutto, io non so da che parte iniziare, ci sono notizie brutte e notizie incredibili, per esempio, aspetta, questo è meraviglioso, questo arriva dall'America, miti veramente! La polizia dell'Ohio, che è uno stato negli Stati Uniti... Eh, dove ti si fanno sempre male! Ohio! Potrebbe essere anche un distaccamento dalla Sardegna, eh, maestro, ci pensa! Esatto, esatto! Allora, la polizia avverte su Facebook, cioè, pensa, questi vanno su Facebook e dicono abbiamo arrestato il vostro pusher, smettete di contattarlo! Cioè, bellissimo! Ma sono educati, ragazzi! Vabbè, comunque non sta bene la polizia americana, eh, per niente! Ascolta, tu non hai mai vissuto negli Stati Uniti, quando hai a che fare con gente letteralmente malata di mente, ti rendi conto che anche, voglio dire, la polizia a un certo punto, cioè, svasa, va a venire di testa! Hai dei pazzi... Paolo Noyce è perfettamente l'esempio dell'americano, adesso! Sì? Sì, sì! Solo di colore! Sovrappeso! Solo di colore! Sovrappeso, di colore, vuncione, sporca la spiaggia! Io sporco la spiaggia! Poi c'ha quella povera santa donna di sua moglie che lo segue e pulisce tutta la merdina che lascia in giro, scorreggia, rutta per strada, è una roba vergognosa! Mamma mia! Ma scusa, che cazzo c'è la microspia? Ascolta, eravamo seduti di là prima a parlare e senti... L'ami si è rotta la schiena! No, l'hai rotto il culo! No, l'ami si... A me si rompe la schiena regolarmente, non sei una persona gentile alle mie confronti! Tu dovresti fornirmi un massaggiatore! Comunque, molta gente spesso e volentieri dice Madonna mia, ma la polizia americana, quanto è cattiva, quanto è crudele! Ma perché voi non avete idea di quanto siano stronzi gli americani in generale? Poi l'America è basata su... Non esistono gli americani! Sono tutti delinquenti che arrivano da tutte le parti del mondo e decidono di vivere nello stesso posto! Soprattutto Miami, diciamo! Soprattutto Miami, che tra l'altro negli anni passati è stata popolata da spacciatori, da drogati, robe varie! Quindi, devi capire che la polizia in qualche modo va fuori di testa dopo un po'. Ma è un po' aggressiva la polizia! Leggerissimamente! E fa bene, fa bene! Cari ascoltatori, se dovesse mai capitarvi di venire qua a Miami, vi ferma un poliziotto mentre affittate la macchina, fate come ho fatto io! Io ho fatto proprio voce grossa col maestro! Sì, sì! 5 miglia all'ora in più, scende questo, maglietta a maniche corte, le braccia erano grosse come il mio torace, baffi in fronte! Tra l'altro pioveva di brutto, quindi era anche incazzato perché è venuto a farmi il cazziatone sotto la pioggia, cicatrici in faccia sul naso! Che cazzo era Sil! Allora io gli faccio al maestro, guardi un po' come si fa con la polizia! Lui pensava che io reagissi! E gli hai fatto un pompino! Gli dicevo, yes I'm sorry, yes I'm sorry, yes I'm sorry! Gli ho detto e quattro, yes I'm sorry! Poi mi ha detto, vai a fare in culo, italiano di merda! E ci ha lasciato andare! Era bianco o nero il poliziotto? Tutte e due! Tutte e due! Tutte e due! È incredibile! Era dietro di colore davanti bianchi! Incredibile! Un Ringo Boys! Però signore, ad indagare sulle cose brutte che accadono nel mondo, ci sono dei programmi televisivi anche in Italia che spaccano di brutto dove il conduttore è talmente dislessico che si inventa delle parole Stiamo per collegarci signori con Squarto Gra